Sì, no, non lo ha fatto ed è infatti una questione politica perché il modo in cui una detenuta viene tradotta nell'aula del tribunale non dipende, diciamo, dai giudici, che è quello che si può far credere, ma dal Ministero della Giustizia, dunque dall'esecutivo. E certamente se la Presidente del Consiglio avesse fatto pressione su Orban, forse ci sarebbe riuscita a ottenere almeno quel risultato. Morale della favola? Abbiamo visto un spettacolo indegno, indecoroso. Io sono rimasta sconcertata, eppure insomma a una certa età di situazioni ne ho viste. Sconcertata perché non mi era capitato mai di vedere un essere umano tenuto con le catene al guinzaglio, una donna che non riusciva neanche a camminare perché aveva i ceppi alle caviglie, tenuta con le manette strette e il guinzaglio. Decenni e decenni di cultura giuridica stracciata. Eppure, Parenzo, nell'Unione Europea c'è la stessa direttiva, quella che impone agli Stati di non esporre l'imputata, l'imputato come se fosse già colpevole. Cosa che invece è accaduta perché tu vedevi quella scena e pensavi Oddio, questa donna si è macchiata di crimini orrendi. E qui siamo ancora in una fase preventiva. Per chi ha visto il film Il silenzio degli innocenti quasi fosse Hannibal Lecter. Sì, quindi una sproporzione totale. Quindi, ecco, questo voglio dire che evidentemente non c'è stata la dovuta pressione ed è inutile che Tagliani dica che non è una bella cosa, ma non è una bella cosa vedere una persona così, ma non è bontorn, non è bontorn, è la cancellazione dei diritti di una detenuta. E allora uno Stato come il nostro si dovrebbe far sentire, e anche l'Unione Europea, perché la direttiva esiste e invece a fronte di questo bisogna essere cauti, rudenti e niente, e silenzio. Il governo italiano secondo te ne esce?